Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dei moti della Terra. I movimenti della Terra sono tre, modo di rotazione intorno al proprio asse, modo di rivoluzione intorno al Sole e moti millenari che avvengono in periodi di tempi molto lunghi per cui noi non ce ne rendiamo conto. Oggi parliamo del moto di rotazione. Allora abbiamo detto che il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie intorno al proprio asse. Quanto tempo impiega la Terra a fare un giro completo, 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Questo lasso di tempo è chiamato giorno siderio, però a noi è molto più familiare il giorno solare che dura 24 ore. Qual è la differenza fra giorno siderio e giorno solare? Il giorno siderio prende come riferimento una stella ed è l'intervallo di tempo che intercorre tra due passaggi successivi e la stella nello stesso punto, cioè quanto tempo passa perché io possa rivedere la stella nello stesso posto? 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Invece nel giorno solare si prende come riferimento il Sole e corrisponde al tempo che intercorre tra due successive colminazioni solari. Quanto tempo intercorre perché in un punto da mezzogiorno torni successivamente mezzogiorno? 24 ore. Ogni punto della Terra compie, abbiamo detto nell'arco delle 24 ore una rotazione completa, quindi fa un giro di 360 gradi. Se andate a vedere infatti l'angolo che qui è messo in evidenza, l'angolo alfa, vedete che qualsiasi sia la posizione di un punto sulla superficie terrestre, l'angolo al centro è sempre della stessa ampiezza. Questa velocità è chiamata velocità di rotazione che è uguale per tutti i punti sulla Terra. Cosa diversa invece è la velocità lineare che varia, non è la stessa in ogni punto sulla Terra, ma è maggiore all'equatore e va via via diminuendo fino ad annullarsi ai poli. Questo perché la lunghezza dei paralleli è diversa, quindi se nelle 24 ore tutti i punti devono fare un giro completo, se la distanza che devono percorrere è maggiore è maggiore, questo significa che la velocità anche sarà maggiore. In effetti se andate a vedere la velocità massima all'equatore è di 463 metri al secondo e va via via diminuendo fino ad annullarsi velocità zero ai poli, al polo nord e anche al polo sud. Quali sono le prove di questo movimento? Ma esistono delle prove sperimentali che sono la deviazione dei corpi in caduta libera, l'esperienza di Guglielmini e l'esperienza di Foucault. Allora che cosa fece Guglielmini? Guglielmini fece cadere un grave dalla torre degli Asinelli a Bologna e che cosa vide? Vide che questo grave, grave è un peso, non cadeva secondo la perpendicolare ma cadeva leggermente spostato verso est e questo proprio perché la terra al di sotto si muove. Allora che cosa succede? Succede che il grave che si trova sopra la torre ha una velocità lineare maggiore rispetto ai punti della superficie terrestre perché è più lontano dall'asse terrestre quindi vedete dovrà percorrere una distanza maggiore rispetto ai punti sulla superficie terrestre. Se deve percorrere una distanza maggiore quindi anche la velocità sarà maggiore e lui conserva questa velocità durante la caduta e quindi la risultante è proprio questa caduta non piano della verticale ma leggermente spostato. L'esperienza di Foucault invece consiste nel far oscillare un pendolo. Un pendolo è un peso agganciato ad un filo e Foucault appunto realizzò questo pendolo, mise una punta, un pennino al di sotto della sfera e sotto a questo pendolo mise sul pavimento della sabbia in modo che facendo oscillare il pendolo la punta potesse tracciare un solco. Ora secondo le leggi della fisica l'oscillazione del pendolo è costante quindi ci si aspettava di vedere un unico solco, sempre quello e invece si vide appunto durante le 24 ore si vide che il pendolo si spostava che i solchi erano più di uno ma si aveva una configurazione a raggiera. Questo proprio a dimostrare che sotto la terra girava. Altre prove del movimento e conseguenze del moto di rotazione sono l'alternanza del dì e della notte e la deviazione dei corpi di movimento sulla superficie terrestre. Allora alternanza del dì e della notte. Che cos'è? Intanto che cosa si intende per dì e che cosa si intende per notte? Il dì sono le ore di illuminazione mentre la notte sono delle ore di oscunità. A causa del movimento di rotazione intorno al proprio asse tutti i punti della terra si alterneranno con periodi di luce e periodi di buio. Esiste il circolo di illuminazione che divide il dì dalla notte che è sempre perpendicolare alla direzione dei raggi solari. Altra cosa particolare è che il passaggio tra dì e notte non è repentino, non è brusco ma si ha quello che viene chiamato crepuscolo, cioè è graduale. Questo proprio a causa dell'atmosfera che circonda la terra per cui i raggi solari tengono rifratti e riflessi e noi abbiamo i crepuscoli che corrispondono appunto all'arba e al tramonto. Altra conseguenza del modo di rotazione è la deviazione dei corpi in movimento sulla superficie terrestre. Questa deviazione è dovuta alla forza di Coriolis che è una forza apparente. Allora che cosa succede? Succede che i corpi non vincolati che si spostano verso nord nel nostro emisfero subiranno una deviazione verso destra mentre nell'emisfero australe una deviazione verso sinistra. Questo perché? Perché i corpi mantengono la velocità lineare del parallelo da cui partono e quindi questo fa sì che si trovino in anticipo oppure in ritardo rispetto al parallelo successivo. Qui vediamo in questa foto che ad esempio se un punto parte dalla posizione A e deve arrivare a 1, diciamo la posizione, il percorso che uno si aspetterebbe sarebbe questo qui A1. Invece a causa della deviazione dei corpi in movimento il percorso che farà sarà A2. Quindi vedete si troverà spostato verso destra. Invece nell'altro emisfero andiamo a vedere B qui, se un punto parte dalla posizione B3 allora subirà una deviazione verso sinistra, quello che ci si aspetterà sarà il percorso B3-B1 e invece in realtà il percorso sarà B3-B2. Quindi vedete che c'è proprio questa deviazione e questa forza di Coriolis è molto importante per studiare i venti e le correnti marine.